Le sequie dell'ultimo vescovo italiano ad aver preso parte al Concilio si svolgeranno domani alle 15.30, giorno di lutto cittadino nel Duomo di Ivrea, ma questa sera tutta la comunità prenderà parte alla preghiera del Rosario alle 20.30 per onorare la memoria del suo vescovo emerito. Bettazzi è ispirato all'età di 99 anni dopo aver vissuto un'esistenza da strenuo difensore della pace, del dialogo e della non violenza. Con 60 anni di episcopato alle spalle, quasi 77 di sacerdozio, l'ultimo padre italiano del Concilio morto all'alba di ieri è stato ricordato in occasione dell'Assemblea Generale della CEI a maggio scorso per la sua saggezza dall'Arcivesco di Bologna e Presidente della CEI, Cardinale Zuppi. Profeta e portavoce di pace, Bettazzi da guida pastorale della Diocesi di Ivrea e poi da Presidente del Movimento Pax Christi fu interprete dell'obiezione alle spese militari. Bettazzi aveva partecipato al Concilio a fianco del Cardinale Lercaro ed era stranuassertore di una chiesa serva e povera in virtù dell'impegno assunto con il patto delle catacombe il 16 novembre 1965 con una quarantina di padri conciliari. Di lui restano la marcia a Sarajevo nel 92 nel pieno della guerra civile insieme al vescovo di Molfetta, Don Tonino Bello consumato dalla malattia al quale restò accanto fino alla morte e la scelta di offrirsi in ostaggio alle Brigate Rosse in cambio della libertà per il Presidente della DC Aldo Moro.